La deliberazione 1293 del 2016 non è che l'ennesimo schiaffo alla sanità peligna, così il sindaco Anna Maria Casini sulla notizia della sottrazione di altro personale all'ospedale di Sulmona. Con la deliberazione sono stati convertite le mansioni di operatori sociosanitari diverse figure professionali oggi non più previste dal contratto collettivo nazionale, rileva Casini. Fin qui nulla a questio, il vulnus è però dettato dal fatto che le figure professionali convertite prestavano servizio nell'ospedale di Sulmona, nel territorio peligno e collattori, operatori sociosanitari così convertiti non presteranno più servizio a Sulmona, ma da Vezzano, L'Aquila e Taliacozzo. Insomma un depotenziamento sul capitale umano che fa il paio con quanto già accaduto in passato. Meno personale, meno posti di lavoro, ma soprattutto minore servizio per i pazienti peligni. Non è questo quello che ci aspettavamo da Tordera, che ci aveva rassicurato rispetto a un'attenzione per il rilancio del nostro ospedale. Dunque come Silveri continua una linea nefasta per la nostra sanità, tuona Casini. Il gioco è noto, togliamo personale e poi chiudiamo. Nulla è più tollerabile. Dopo la vicenda del medico assunto nel reparto di medicina nucleare e mai avviato nel servizio di Sulmona e le vicende nel reparto di diabetologia non possiamo più tacere. Chiedo un incontro agente con il direttore generale affinché si faccia chiarezza sulle reali intenzioni rispetto al futuro della sanità della Valle Peligna, chiosa il sindaco.